La sentenza della Cassazione è arrivata nella serata di ieri, confermata la condanna a 6 anni, 5 mesi e 15 giorni per la donna pratese, oggi 35enne, che nel 2018 partorì il figlio avuto da un ragazzino di appena 14 anni a cui dava ripetizioni di inglese in vista dell'esame di terza media. La sentenza spalanca le porte del carcere, diventa definitiva la condanna per atti sessuali e violenza sessuale per induzione su un minore e la donna, assieme al proprio avvocato Mattia Alfano, ha deciso di non aspettare i carabinieri ma di costituirsi subito a Sollicciano, il carcere con una sezione femminile più vicino a casa. Quelle di ieri sono state ore di lunga attesa per l'imputata, il colpo di scena non c'è stato, il terzo grado ha fatto suo il convincimento dei giudici di appello che un anno e mezzo fa, a loro volta, sposarono la sentenza del Tribunale di Prato, dunque arriva la parola fine alla vicenda venuta a galla nella primavera del 2020 quando il ragazzino, schiacciato da preoccupazione e angoscia, confidò alla madre in cosa si erano trasformate le lezioni di inglese, non libri e compiti ma incontri amorosi, anzi sessuali, che ancora andavano avanti e dai quali un anno e mezzo prima, nell'estate del 2018, era nato un bambino. 29 anni lei all'epoca, 14 lui, un rapporto diventato ben altro da quello che doveva essere e dal quale, raccontò in seguito il giovane, non riusciva a sottrarsi a causa delle minacce della donna di rivelare a tutti la vera paternità del bambino, se lui non avesse assecondato quella relazione. Una minaccia troppo grande per il ragazzo, diventato improvvisamente taciturno, insofferente, preda di comportamenti insoliti e infine esplosi in un racconto che nessun genitore vorrebbe mai ascoltare. La madre, accompagnata dall'avvocato Roberta Roviello, si presentò in questura. L'esame del DNA confermò la paternità. La procura di Prato aprì un'inchiesta e sul registro delle notizie di reato finirono la donna, messa poi agli arresti domiciliari per un anno, e il marito, assolto in appello dall'accusa di sapere di non essere il padre del bambino, quando all'anagrafe lo registrò con il proprio cognome. L'imputata varca le porte del carcere, dove dovrà scontare quasi un anno prima di chiedere i domiciliari e accedere così all'unico beneficio previsto per le mamme con almeno un figlio sotto i 10 anni. E lei è mamma di quel bambino che oggi di anni ne ha 5.